Prima tappa della Mille Miglia di Fonditalia, oggi siamo a Brescia, siamo quasi pronti per la partenza di questa fantastica Mille Miglia 2022 e con noi Ermanno Danesi direttore commerciale della Gabogas. Bene, parliamo della Gabogas perché la Gabogas è un'azienda che aderisce da anni a Fonditalia e approfitta delle possibilità date da Fonditalia anche per assolvere quelli che sono gli obblighi di legge per la formazione obbligatoria, pensiamo a tutto il campo dell'81-2008? Esattamente, noi aderiamo a Fonditalia dal 2016, tramite Fonditalia abbiamo avuto la fortuna di poter assolvere tutti quelli come dicevi tu, sono gli obblighi di legge qui dell'81-08, quindi sicurezza e salute sui posti di lavoro, sicuramente serve e servirà per il futuro perché avere una società competente che conosce l'ambito e che ti prepara, che ti ricorda cosa devi fare, nonostante ce lo ricordiamo anche noi come essendo un'azienda ad alto rischio, è sicuramente molto 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 importante. Ecco, Fonditalia però non vi ha finanziato esclusivamente percorsi formativi obbligatori appunto sull'81-2008 ma avete realizzato anche altri percorsi specifici secondo di volta in volta le esigenze che l'azienda faceva emergere a seconda del fabbisogno formativo. Che altri tipi di percorsi avete realizzato? Allora abbiamo realizzato una cosa molto importante essendo in un'azienda commerciale, quindi public speaking, cioè riuscire a formare il nostro personale o comunque chi collabora con me, si occupa della parte commerciale, sapere come interagire, come interloquire con un cliente, con una persona che di volta in volta è diversa, sta sicuramente importante, dato modo ai miei colleghi di crescere anche sotto questo punto di vista. Ecco, quanto è importante secondo te investire per un'azienda nella formazione dei propri collaboratori? Fondamentale, nel senso che poi l'azienda si ha degli obiettivi a lungo termine, come dovrebbero essere tutte le aziende gestite da imprenditori che hanno una visione a lungo termine proprio, è fondamentale poter investire, far crescere, quindi torno a ripetere, appoggiarsi a una società che ti dà degli strumenti diversi da quello che sono la legge normale, quindi l'obbligatorietà e ti porta ad avere una possibilità di crescita collettiva è sicuramente molto importante. Quindi Fonditalia possiamo dire che è al fianco di Gabogas per lo sviluppo delle proprie competenze? Lo era, lo è, lo sarà sicuramente anche per il futuro. Grazie per essere stato con noi. Grazie mille a voi. Grazie. Grazie.